Stanno arrivando le tinotte, eccole! Il Palio della Tinozza, visto dal Ponte Romano. Il nostro Vescovo Domenico Pompili, che darà la benedizione, come sempre, a questo Palio della Tinozza. Il Signore, appunto, per le sue creature, per il sole, le stelle, l'inverno, lo nota per Sora Acqua, che definisce attraverso quattro caratteristiche. Dice che Sora Acqua è molto utile e preziosa. Si inizia, subito, Mario Antonio, che cerca subito il corpo di Fadegi. La finale, la finalissima! Elio Zanetti, si conferma campione! Campione! Un peso massimo sulla trave al gioco della vertica. Davanti a un pubblico di Dio! E' quello! Il Palio Pagliattoni è rimasto sulla baseretta e poi si è gettato in acqua.